Diamo lettura del bollettino di oggi. Il totale dei guariti incrementa di 943 persone e si porta a 6.072. Il numero delle persone attualmente positive incrementa di 4.821 persone, per cui il totale delle persone positive, attualmente positive, è di 42.681. Di queste 22.116 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 2.857 sono in terapia intensiva, il 7% delle persone positive, e il resto sono in ospedale ricoverate. Purtroppo dobbiamo anche registrare quest'oggi un incremento dei deceduti di 793 nuovi deceduti. Voglio ricordare ancora una volta che noi conteggiamo tutti i deceduti e quindi non facciamo una distinzione di deceduti per e con il coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo abbiamo sempre oltre 7.000 volontari impiegati e abbiamo visto un incremento delle tende per il pretriage negli ospedali di 21 tende che porta il totale delle tende per il pretriage a 690. Rimane fermo il numero delle tende per pretriage negli istituti penitenziari. Ad oggi il numero dei pazienti trasferiti dalla Lombardia con il sistema della CROSS è di 61 pazienti, uno in più rispetto a ieri e stiamo lavorando per potenziare il trasferimento di ulteriori pazienti dalla regione Lombardia verso altre regioni. Voglio poi ringraziare, ringraziare tutti coloro i quali hanno risposto alla nostra chiamata medici per covid. Ieri abbiamo lanciato intorno alle 20 la call per tutti coloro i quali vogliono contribuire alla gestione dell'emergenza facendo parte della task force sanitaria del dipartimento della protezione civile. Abbiamo ricevuto un numero importante poi in serata vi daremo il numero definitivo, un numero molto molto alto e quindi ringraziamo tutti quanti coloro i quali hanno aderito al nostro invito e saranno prontamente destinati per andare in Lombardia e nelle altre territori in cui ci sarà bisogno di medici. A proposito dei medici abbiamo organizzato con Regione Lombardia, noi con Alitalia che voglio ringraziare il viaggio per far venire nel nostro paese un team di 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo che è stato allestito a Cremona. Da ultimo vi voglio anche parlare del tema mascherine ma non dei numeri quanto di questa polemica in qualche modo si è generata anche sui social sulle mascherine. Come sapete il Dipartimento della Protezione Civile sta acquisendo mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo le mascherine per il personale sanitario, sono le mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3 ma in questo Dipartimento così come negli altri uffici pubblici, per i lavoratori abbiamo acquisito mascherine che quindi possono essere utilizzate per liberare poi le mascherine chirurgiche e soprattutto le mascherine FFP2 e FFP3 da rendere disponibile per il personale medico. Quindi su questo tema delle mascherine non c'è stata alcuna polemica con la Regione Lombardia anche oggi, abbiamo lavorato insieme a Regione Lombardia e stiamo lavorando per potenziare la capacità di risposta della Regione Lombardia. Io mi fermerei qui, darei la parola a Professore Brusaferro se vuole prego Professore e poi diamo spazio alle domande. Grazie, grazie Dottor Borrelli, buona serata a tutti. Come ormai è tradizione come istituto abbiamo prodotto il report bisettimanale, credo che voi ne abbiate già preso visione dal nostro sito, adesso pochi minuti fa è stato pubblicato all'infografica di oggi. Il nostro report bisettimanale include due tipi di dato, come sapete, una un'analisi epidemiologica più generale dell'andamento dell'infezione nell'intero territorio nazionale, è un allegato con anche rappresentazione grafica dell'andamento per provincia, per comune e per regione e poi c'è un altro report che invece fa una focalizzazione particolare sul tema dei deceduti perché è uno dei temi che ci sta più a cuore ed è un tema che cerchiamo di analizzare nella maniera più dettagliata possibile. In due battute, ovviamente questo dato è disponibile e continueremo a renderlo disponibile unitamente alle analisi man mano che queste si vengono a produrre e a raccogliere evidenze. Il dato rilevante, come vedete, è un dato di alta circolazione dell'infezione, soprattutto in alcune zone d'Italia, che sono quelle ormai purtroppo note anche perché sono veramente sotto pressione dal punto di vista anche dell'assistenza, della vita sociale, abbiamo una diffusione anche in altre zone d'Italia ma ancora con numeri contenuti. Vi ricordo che la ragione per cui vengono adottate o sono state adottate queste misure così restrittive nei confronti della nostra vita hanno proprio la finalità di fare in modo che nel nostro Paese non avvenga una diffusione così importante e così intensa come sta avvenendo in alcune zone. Devo dire che ci conforta anche il fatto che altri Paesi che purtroppo stanno avendo anche loro una circolazione elevata, uno alla volta stanno poi adottando misure come le nostre. L'altro elemento molto importante da cogliere è che ovviamente le caratteristiche delle popolazioni che vengono colpite sono caratteristiche che confermano un scenario che avevamo già cominciato a tratteggiare all'inizio di questa epidemia e che si manifesta ancora in maniera importante. Questo ci dice di una età mediana che piuttosto è intorno ai 63 anni mentre per i morti l'età mediana è un po' più elevata e sfiora agli 80 anni. Ci dice di una popolazione maschile che più colpita rispetto alla popolazione femminile, ci dice che ancora c'è un tempo mediano di sorgenza tra i sintomi e la diagnosi di cinque giorni e questa è una delle sfide che dobbiamo cercare di chiudere perché in realtà prima intercettiamo e prima isoliamo le persone con sintomi e meglio è. L'altra cosa ci dice di un numero di deceduti piuttosto elevato, anche il lancio di oggi purtroppo segna dei numeri molto importanti ma quando andiamo a vedere la caratteristica sono purtroppo le caratteristiche che abbiamo già tratteggiato nelle giornate scorse, quindi lo trovate nel report, quindi un report ovviamente non è, non tiene conto di tutti i singoli decessi che trovate riportati, come ci siamo detti, nei dati che oggi la protezione civile mette a disposizione ma un'analisi di un numero di parecchie centinaia di cartelle che stiamo acquisendo che però a questo punto sono un campione molto rappresentativo della realtà e ci dice appunto di una popolazione che ha un'età media intorno agli 80 anni, ci dice di una presenza della mortalità e della letalità soprattutto in pazienti sopra i 70 anni o sopra gli 80 anni, ci dice di una ancora realtà dove purtroppo le persone che sono affette da più patologie sono le persone più fragili quelle che più facilmente vanno incontro ad eccesso, ci dice anche di complicanze che possono esserci come l'insufficienza renale, l'insufficienza respiratoria che caratterizzano un po' la storia clinica di queste persone, ci dice anche che sostanzialmente i sintomi più rilevanti sono, confermiamo quelli che abbiamo detto e quindi sono febbre, sono tosse, sono dispnea. I dati, ovviamente soffriamo di un dato importante che prima dell'epidemia era uno dei vanti, è stato ed è uno dei vanti del nostro paese e del nostro servizio sanitario nazionale, quello di avere una popolazione molto anziana, con un'età molto elevata e con ottima sopravvivenza anche con molte patologie. Purtroppo questo tipo di infezione rappresenta, vede questo virus, è capace di creare quella forma di insufficienza in particolare a livello delle vie respiratorie che sbilancia un equilibrio che veniva faticosamente ma costantemente mantenuto. Questo tipo di caratterizzazione e questo tipo di target, diciamo, che ha il virus nello sviluppare, nel sviluppare l'infezione all'interno del nostro organismo fa sì che queste persone siano particolarmente fragili e siano particolarmente suscettibili. Come conclusione io credo che dobbiamo, ah sì, l'ultimo elemento credo che dobbiamo segnalare è il numero di operatori che è molto significativo, il che ovviamente è un altro motivo molto importante di preoccupazione ed è anche un motivo di grande impegno e anche di occasione per ringraziare lo sforzo che tutti gli operatori fanno per dare un'assistenza. Vorrei chiudere con due considerazioni. La prima, l'importanza di essere tassativi nel rispetto delle misure. Ieri il Ministro della Salute ha pubblicato un'ordinanza che ha ristretto ulteriormente alcuni ambiti di movimento. Credo che sia un segnale forte per dire non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo che sta circolando nelle nostre comunità. Ci sono ancora situazioni in cui con la scusa di fare due passi si coglie l'occasione per fare assembramenti con la scusa di due passi sono sacrosanti però il tema dobbiamo farli da soli non bisogna che ci siano assembramenti. Questo elemento è molto importante. Sono misure rispetto alle quali le scappatoie sono soluzioni che danneggiano noi stessi ma soprattutto danneggiano le persone, i nostri cari, le persone più fragili della nostra società e questo vale è importantissimo. Quindi gli anziani è bene che stiano a casa perché sono le persone più fragili e sono quelle che più facilmente se infettate pagano il dazio più elevato. Bisogna trovare meccanismi di rispetto sistematico di queste misure. Senza questi meccanismi non saremo in grado di rallentare la diffusione di questa infezione. E' veramente un appello importantissimo. L'altra cosa se però lo facciamo e devo dire una parte importante del paese lo sta adottando possiamo effettivamente fare in modo che questa diffusione si rallenti oppure come sta avvenendo in alcune regioni in questo momento la circolazione ci sia ma sia sostenibile sia permetta ai nostri servizi sanitari a tutti i livelli dalle cure primarie agli ambulatori fino agli ospedali alle terapie intensive di fare di offrire quell'assistenza che aiuta a superare questa infezione. Questo è estremamente importante. E' la misura chiave rispettare le regole e l'unico modo è siamo consapevoli che se non lo facciamo non è soltanto un problema nostro, è un problema dei nostri vicini, è un problema dei nostri anziani, è un problema dei nostri figli più fragili, è un problema della parte della società che più facilmente viene colpita da questa infezione e venendo colpita può avere effetti nefasti come purtroppo dobbiamo censire oggi. Grazie. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Mi leggo al discorso sull'essere tassativi nel rispettare le misure. Vi voglio chiedere, ovviamente ci sono state delle indiscipline, ma molte persone escono di casa perché vanno a lavorare. In provincia di Brescia e di Bergamo moltissime fabbriche, che sono le più colpite, moltissime fabbriche sono rimaste aperte. Dunque mi chiedo se voi stiate chiedendo anche al Governo anche di rivedere i livelli, diciamo, di servizi essenziali. Oppure, per esempio, implementare servizi di distribuzione della spesa a casa, anziché andare tutti al supermercato. Mi chiedo se da parte vostra ci sia anche questa richiesta al Governo, cioè di limitare gli spostamenti anche di chi va a lavorare, perché noi compresi siamo fuori, non perché facciamo una passeggiata, ma perché andiamo a lavorare. Io credo che bisogna limitare, come abbiamo detto, le misure che sono state adottate e limitano al massimo gli spostamenti. Ci sono delle esigenze che vanno assicurate, non possiamo certo garantire la fornitura della spesa a domicilio per tutti, se qualcuno non esce per portare la spesa a domicilio. Quindi sono state previste limitazioni alle attività lavorative non essenziali ma ci sono tutta una serie di filiere, come la filiera alimentare, la filiera dei servizi pubblici essenziali e dei servizi che devono essere garantite. Quindi credo che si siano adottate le misure massime che si potevano adottare poi dopodiché verrebbe la chiusura totale del Paese ma mi domando come vivremo, come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa, se nei supermercati non arrivano i generi alimentari e quant'altro. Non so se vuole aggiungere qualcosa il Presidente. Io credo che dal punto di vista tecnico scientifico il punto chiave è il distanziamento che va rispettato in tutte le fasi e questo è un elemento anche nei luoghi di lavoro, anche con delle condizioni che si devono garantire. Questo è l'elemento più importante. Il distanziamento è l'elemento chiave di questa battaglia. Io credo che si possa poi fare altri tipi di riflessione però certamente mi sento di ribadire questo elemento. L'altro forse elemento che possiamo aggiungere è che siamo in una fase in cui la curva cresce e dobbiamo vedere fondamentalmente i provvedimenti dell'11 marzo sono stati provvedimenti che hanno esteso a tutto il Paese in una situazione di, diciamo, restringimenti molto forti ecco sostanzialmente. Vedremo anche nei prossimi giorni questo tipo di l'impatto di queste misure però ripeto l'impatto sarà attenuato se i comportamenti non consapevoli, non sufficientemente chiari e decisi o le vie di fuga magari, no, le scammotage per cercare di bypassare un vincolo non sono la soluzione, non sono una furbata, sono un problema per tutti e soprattutto, ribadisco, per le persone più fragili. Buonasera, Giorgia Cardinaletti, Tg1. Impossibile non tornare oggi sul tema dei decessi. Chiedo al professor Brusaferro, ci avete sempre detto che sono appunto persone con età avanzata, con patologie pregresse, però cerchiamo, vorremmo capire come muoiono queste persone? Perché, per esempio, prendo il dato della Lombardia, 546 vittime in un giorno, sono stati 43 i ricoveri oggi in terapia intensiva, perché sono 1.093 il totale dei ricoverati in terapia intensiva. Come muoiono queste persone? Non ci sono posti? Perché muoiono? Grazie. Allora, un'analisi, come le ho detto, la stiamo facendo. Io posso darle delle considerazioni generali, ma parlando da persona di scienza cerco di parlare attraverso i dati. I dati sono quelli che abbiamo riportati nel bollettino di ieri, che voi certamente avete scaricato e letto, e che si basano su un'analisi precisa, dettagliata, delle cartelle cliniche di queste persone. Quello che avviene in queste persone, soprattutto quando avanti negli anni e quando portatrici di patologie, avviene che un'infezione, una polmonite sostanzialmente, qual è il tipo di infezione che poi rappresenta la manifestazione clinica più evidente di questa, scatenata da questo tipo di infezione, finisce per creare quel livello di insufficienza in tutto il nostro organismo, che sommandosi alle altre insufficienze che erano compensate o da farmaci o da stili di vita, ma che comunque portavano a una certa fragilità, questa ulteriore insufficienza finisce per sbilanciare la capacità di mantenere un equilibrio da parte di queste persone e sbilanciarla favorevolmente, non riuscendo più a compensare. Quindi quello per cui abbiamo evidenza dalle cartelle cliniche è di fatto un sistema di insufficienza respiratoria, cioè è legato alla polmonite che in qualche modo scompensa una situazione, oppure una diciamo insufficienza respiratoria o sintomatologie di questo tipo, che vanno a sommarsi su pazienti magari portatori di tumore, portatori di cancro, già in fase terminale o che comunque avevano impegnati seriamente dal punto di vista anche della prognosi, dove questo elemento aggiuntivo fa un po' d'elemento scatenante nell'alterare quell'equilibrio che faticosamente facevano, che mantenevano. Il numero è impegnativo, i numeri però sono molto concentrati in alcune fasce di età, il che non toglie ovviamente che ogni vita in qualsiasi età, in qualsiasi momento è preziosa per tutti noi, però ci dà anche in qualche modo, se volete, il target di questo virus. Ed è anche il motivo per cui più volte mi avete sentito ripetere, ma tutti noi ripetiamo, state a casa, soprattutto per gli anziani state a casa. Abbiamo bloccato le case di riposo, proibito le visite, è una cosa drammatica, ci rendiamo conto perché sono persone fragili, perché spesso stare vicino ai propri cari anche in una struttura protetta è un'occasione per condividere alcuni momenti della nostra vita, spesso frenetica, con loro. Però questa proibizione parte dall'assunzione che queste persone siano veramente flagici e dobbiamo ridurre al massimo il rischio che un'infezione entri in queste strutture, perché se entra in queste strutture è particolarmente complesso e difficile controllarla e rischia di diffondersi molto rapidamente. Quindi questa è la ragione per cui ribadisco, e lo dico ancora, non solo da scienziato, ma anche da persona, da figlio di genitori che sono oltre 80 anni, state a casa. Stefano Corradino, Rai News 24. Volevo chiedervi una riflessione sulla situazione legata al centro-sud. Ne avete accennato, noi abbiamo calcolato che sono circa, sono 72 le vittime nella giornata di oggi, in tutte le regioni del centro-sud circa un decimo rispetto al totale. Volevamo capire qual è la vostra valutazione dell'andamento e ovviamente voi avete spesso ripetuto che è difficile ragionare sui picchi da un punto di vista temporale. Però per capire da voi qual è l'andamento nelle realtà del centro-sud che fino adesso sono state meno colpite e anche per capire se dal punto di vista delle strutture sanitarie c'è un'organizzazione adeguata qualora ci fosse il rischio di un potenziale aumento dei contagi. Allora io magari rispondo alla prima domanda poi lascio al dottor Borrelli la parte più organizzativa logistica su cui si sta investendo molto. La prima domanda ci dice di un'Italia, lo vedete dalle mappe, dove più o meno tutte le regioni in questo momento hanno una circolazione locale. Di origine diversa ma sostanzialmente abbiamo delle casi locali e quindi credo che tutte le regioni oggi si stiano confrontando con questo tipo di infezione. Quindi il problema non è c'è l'infezione o non c'è l'infezione, il problema è qual è la curva con cui si diffonde questa infezione. In questo momento in molte regioni, la maggioranza delle regioni italiane è una curva ed è un numero di infezioni che è sostenibile e gestibile dal Servizio Sanitario Nazionale sia perché si è preparato sia perché ha tutti i requisiti e le competenze per poterlo fare. Questa curva però è quella che ci siamo oggi, ci siamo detti che il numero di casi che ci portiamo è un numero di casi che ha una sua influenza cioè noi sappiamo che l'insorgenza dell'infezione avviene tra i 4 e 7 giorni, sappiamo che poi il ricovero può avvenire ulteriormente dopo, sappiamo che il decesso può avvenire ulteriormente dopo. Per cui colgo anche l'occasione per segnalare come i decessi che noi oggi censiamo sono anche un portato non di ieri, sono un portato di alcuni giorni or sono. Quindi in un tempo di questo tipo. Allora la scommessa per le regioni del sud è che queste curve possano essere modificate e il numero di casi possa essere limitato e limitato nella dimensione sostenibile dal nostro Servizio Sanitario. Ma qui adesso lascio al Commissario Borrelli l'illustrazione delle misure che sono in corso. Allora tutte le regioni sulla base di quelle che sono le indicazioni che ha fornito il Ministero della Salute, sapete dall'inizio di marzo hanno avviato un programma di potenziamento delle strutture di ricovero e cura, i numeri dei posti di terapia intensiva sono passati da 5.400 a oltre circa 8.000, 7.700 qualcosa. Il lavoro si sta facendo giorno per giorno, è un lavoro importante nel quale si è innestata la figura del Commissario Arcuri che sta lavorando insieme a noi e con le regioni per potenziare le strutture. Sono stati potenziati anche gli altri posti di pneumologia e degli altri reparti, quindi non solo le terapie intensive si stanno allestendo strutture, lo sapete, lo avete visto, si sta facendo una corsa contro il tempo e si sta facendo un lavoro senza sosta e senza tregua, al momento i numeri che registriamo nel Sud sono dei numeri del nostro Paese, sono dei numeri che sono fronteggiabili con tutto quello che è stato messo in campo. Marco Maceroni, agenzia di stampa Italpress, si sta parlando molto per il caso Bergamo-Lombardia, in particolare Bergamo, oggi di un'ipotesi di un momento zero che potrebbe essere stata la partita di Champions League Atalanta-Valenzia, dove comunque erano radunati molti tifosi all'interno Stadio San Siro. La state studiando, vi risulta, potrebbe essere appunto un'ipotesi per cercare di dare una spiegazione al perché un focolaio così intenso in quella zona? Questa è una delle ipotesi che si si vagliano. In questo momento è abbastanza difficile analizzare questo tipo di ipotesi, è una delle ipotesi, anche perché il carico di domanda assistenziale che c'è presente in quei territori porta la necessità di dare assistenza come prioritaria. Certamente è un'analisi che si può fare, credo però sia molto importante, anche per gli abitanti di quelle zone, veramente mantenere in maniera rigorosissima le raccomandazioni, i comportamenti che sono stati raccomandati. Certamente quello che noi censiamo oggi, come ho detto prima, censiamo comportamenti per quanto riguarda le infezioni, di una settimana or sono, per quanto riguarda i decessi, probabilmente di 8, 10, 15 giorni or sono. Quindi in realtà questa è un'onda che ci viene da infezioni che sono arrivate e che quando colpiscono per fascia di età sono più impattanti. La scommessa è nei comportamenti odierni di mantenere la cosa. L'altra cosa che è estremamente importante in tutte le aree del Paese, non soltanto nelle zone dove in questo momento c'è alta circolazione, è che le persone che sono state contatti stretti, le persone che sono quarantenate, con le loro famiglie a casa stiano a casa, mantengano questa dimensione di quarantena. È molto importante perché è una realtà del Paese, peraltro dove quasi tutte le attività sono sospese, o gran parte le attività sono sospese, dove questo tipo di scelta oggi è sostenibile, quantomeno in termini di rapporti sociali. È difficile, capiamo, vivere nel proprio appartamento, nella propria casa, però è un sacrificio che veramente è importante per noi e per il Paese. Buonasera, Sibilla Bertollini di ADN Kronos. Oltre alle mascherine c'è un altro tema che sta facendo polemica, che è quella della limitazione degli orari dei supermercati. C'è chi ritiene che appunto questo possa creare delle lunghe file, quindi degli assembramenti e quindi anche un maggior rischio contagio. Qual è appunto, Dottor Borrelli, ma anche Brusa Perro, se vuole rispondere, la vostra considerazione, soprattutto se si sta pensando invece a una direttiva unica a livello centrale? Io credo che bisogna evitare gli assembramenti, quindi personalmente, ma è una mia idea personale, se l'orario di apertura dei negozi è un po' più ampio, si riduce la concentrazione in quell'orario in cui è aperto e quindi gli eventuali anche code e disagi per la popolazione. Sicuramente quello che dobbiamo fare nel nostro Paese è avere una uniformità di comportamento. Ogni nostro concittadino deve sapere, dalle Alpi alla Sicilia, che per andare a fare la spesa ci sono degli orari, siano essi più lunghi o più corti, ma in quegli orari bisogna andare. Quindi credo che sicuramente misure uniformi rendano a tutti quanti più agevole la vita. Non so cosa ne pensa il professore Brusaferro, a lui la parola. Ma ce lo siamo detti, il distanziamento è poi la chiave di lettura. Io devo dire, da romano d'adozione a questo punto, visto che ormai passo da alcune settimane sono fisso a Roma, colgo e devo dire anche con apprezzamento il fatto che la mattina quando mi recco presso l'istituto vedo delle file di persone davanti ai supermercati e sono file molto lunghe, però le vedo distanziate. Allora colgo che c'è un disagio sicuramente nelle persone che devono passare una parte del loro tempo aspettando un po' da sole in piedi, fortunatamente il clima adesso magari favorisce, però colgo anche e lo apprezzo il fatto che c'è il distanziamento. Ecco, credo che certamente è una fatica a fare questa coda, certamente è un disagio, certamente però garantire questo distanziamento credo sia il miglior esempio e sia anche quello che dobbiamo fare. Dopodiché possiamo discutere su varie misure, però il punto chiave è quando invece troviamo assembramenti nei tabacchini, quando troviamo assembramenti nei parchi perché con la scusa di portare l'amica o per quello che volete, quando pure facciamo finta, andiamo in gruppi a fare la camminata per fare la camminata assieme, quello non è l'atteggiamento corretto. Quindi credo che veramente la chiave di lettura sia quello ed essere tutti consapevoli di questo e tutti adottarlo. Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. Rispondendo al collega ha detto che la partita di Champions League a Atlanta-Valencia potrebbe essere stata una delle cause della diffusione molto forte del contagio in Lombardia. Quali sono le altre ipotesi che ci sono? Perché comunque anche guardando i dati, in Lombardia ci sono dei tassi direttamente superiori anche della mortalità, oggi ci sono stati 527 morti e siamo arrivati a un 64%, quindi se ci sono delle ipotesi ulteriori che spiegano questa diffusione del contagio è se semplicemente che le misure restrittive sono arrivate in ritardo rispetto al resto dell'Italia. Ma no, non credo che le misure restrittive, perché la Lombardia da subito ha avuto delle misure molto restrittive, sostanzialmente credo, abbiamo l'esempio anche della zona dei comuni di Codogno che sono stati cinturati e dove effettivamente la misura ha portato a una riduzione nella circolazione del virus, una riduzione dei nuovi casi. Credo che, io in questo momento non mi sento di esprimere varie ipotesi perché quando scientificamente noi definiamo delle ipotesi abbiamo dei presupposti scientifici, li andiamo a costruire e poi con i numeri andiamo a verificare se queste ipotesi sono concrete o sono verificate. In questo momento, le ho detto, la priorità è certamente quella di, in quel contesto particolarmente, è nel supportare da un lato la realtà assistenziale, dall'altro nel rafforzare le misure per ridurre la circolazione. Le ipotesi poi le valuteremo e le valuteremo con calma più avanti. In questo momento le priorità sono quelle che le ho detto. Devo dire che è importantissimo in Lombardia come altrove adottare queste misure. Quindi, purtroppo, Lombardia partiva da una realtà dove la circolazione iniziale è stata significativa, dove anche le regioni, diciamo, dal nucleo iniziale insomma dei famosi comuni zona rossa si è intervenuto tempestivamente, in maniera assolutamente tempestiva nel ridurre drasticamente la mobilità. Però comunque in quel momento alcuni positivi erano già usciti o avevano avuto contatti e nelle zone limitrofe c'è stata una circolazione ulteriore del virus e che si è propagato per contiguità, se avete visto, sia da una parte nella zona del Bresciano, dall'altra nella zona del Bergamasco, dall'altra ancora nella zona verso la parte nord dell'Emilia. E questo, evidentemente, è un tema importante che ci dice anche come il virus si muova in qualche modo prevalentemente, anche se non unicamente, per contiguità. Buonasera, Giulia Presutti, Report. Professor Brusaferro, si è detto che anche persone piuttosto giovani dal BOLTA finiscono in terapia intensiva. C'è un dato preciso su questo? E soprattutto è possibile stabilire se queste persone avessero patologie pregresse? Cioè cosa fa il virus a una persona mediamente giovane e mediamente sana? Allora, dati precisi sulle terapie intensive, a parte quelli che vedete, non ne abbiamo al momento, non tali da poter essere presentati come dati solidi, soprattutto rispetto alla parte clinica. Abbiamo dei dati, viceversa, che voi potete trovare nel rapporto sulla mortalità, dove le persone al di sotto dei 50 anni o al di sotto dei 40 anni che purtroppo sono decedute erano tutte caratterizzate da presenza di patologie piuttosto impegnative. Cioè rientravano in quella patologia, mancava solo l'età, gli altri fattori di rischio purtroppo c'erano e laddove sono stati colpiti questo ha comportato anche per loro il decesso. Da qui anche la raccomandazione, certamente per gli anziani stati a casa, ma anche per le persone che sono affette da patologie, particolarmente quelle patologie che immunodeprimono, sono persone che devono stare assolutamente protette. Marco Menzolati di Repubblica, una domanda per entrambi. Da più parti abbiamo letto che i numeri che quotidianamente vengono forniti probabilmente cominciano a non avere più senso, visto che ciascuna regione reagisce per conto suo e che tutto quello che viene un po' previsto partendo da questi numeri poi quotidianamente viene smentito. Questo a voi in qualche modo vi solleva qualche dubbio o meno? La seconda parte di questa domanda. Possibile che il fatto che poi la realtà non risponda a ciò che viene previsto dai numeri sia soltanto colpa dei cittadini che non obbediscono a quello che viene chiesto? Forse c'è qualcosa nel modello Italia che sta evidentemente non funzionando più. Faccio riferimento anche alla polemica delle mascherine. Se noi lasciamo gli italiani andare a fare la spesa senza le mascherine perché è pieno di gente che si mette fulare e che va senza mascherine perché le mascherine non ci sono allora poi probabilmente l'intero meccanismo non ha senso e i numeri della Lombardia la retta della Toscana insomma danno un po' l'idea di una situazione fuori controllo. È una lettura implausibile. Magari io rispondo ad alcune delle sue domande. Io lascerei tutto al professore sulla parte epidemiologica. Allora, più volte voi mi avete posto un problema dei modelli provvisionali più volte sono comparsi sulla stampa sui siti persone brillantissime anche che provengono da settori magari non propriamente specifici di questo tipo di disciplina mostrare modelli provvisionali mostrare curve predire picchi o cose del genere. Non mi avete mai ripeto mai sentito fare una previsione non perché le previsioni non si possano fare non perché come istituto e insieme come comitato tecnico scientifico non proviamo a immaginare ma perché le previsioni soffrono di quello che lei dice soffrono di alcune assunzioni e in una fase epidemica in crescita rischiano di essere fuorvianti o in senso positivo o in senso negativo. Quindi in realtà il tema della previsione io francamente colgo quello che lei dice e lo condivido. Credo che esercitarci provare, simulare sia doveroso sia scientificamente anche importante per imparare ma bisogna avere anche la consapevolezza che ogni previsione soffre degli assunti con cui la costruisci e che devono verificarsi con gli assunti perché tu possa poi fare in modo che quella previsione si realizzi così come la modellizzi. Questa è la ragione per cui non abbiamo mai proposto e non mi avete mai sentito dire saremo vicini al picco c'è stato un calo oggi cosa ne dice non siamo in grado bisogna guardare i trend bisogna guardare la realtà bisogna lavorare con dati solidi con la real life certamente avendo degli orizzonti cercando di avere delle attese. Ora le attese oggi certamente sono attese che con le restrizioni adottate possiamo valutare la prossima settimana che cosa questo può avvenire. Quindi io francamente quello che lei dice ma allora in realtà modelliamo le previsioni se non beccano cambiamo previsione perché abbiamo visto che la realtà è diversa non la sento mia non la sento neanche propria del CTS questo è un primo elemento che volevo dirle. La seconda cosa però noi abbiamo visto che alcune misure come nel caso dei comuni centurati adottate hanno portato obiettivamente avete visto i dati riportati in maniera molto trasparente hanno portato a una riduzione dell'R0 significativa sotto l'1 che vuol dire che non è che non ci sono completamente nuovi casi perché anche in Cina abbiamo nuovi casi ma che il numero di nuovi casi è significativamente ridotto. Abbiamo ragione di ritenere che l'estensione di misure forse un po' meno draconiane se volete rispetto a quelle adottate per quei comuni ma d'altra parte su un territorio molto più vasto e sono molto più difficili da realizzare possano ottenere una riduzione dell'R0 insomma ormai tutti sappiamo che gli italiani hanno ben chiaro cos'è l'R0 vicina o sotto l'1 lo vogliamo misurare lo stiamo misurando lo cerchiamo di analizzare giorno dopo giorno però credo anche nella spiegazione che vi ho dato prima rispetto al significato delle morti odierne che ripeto sono comunque un dramma comunque sono una sofferenza per l'intero paese oltre che nostra personale sono però un portato dal punto di vista epidemiologico di un periodo precedente credo che anche in questa conferenza stampa più volte abbiamo segnalato alcune settimane fa dei comportamenti delle cose che facevano prevedere e che peraltro voi potete vedere in maniera molto chiara nelle città europee o in altri paesi europei dove alcuni tipi di elementi oggi si declinano sotto forma di patologie sotto forma di nuovi casi detto questo stiamo monitorizzando e non appena avremo dei segnali che ci dicono ci danno indicazioni non certamente saremo assolutamente tempestivi e trasparenti come lo siamo sempre stati finora nel comunicarlo nel condividerlo ma anche qualora ci fossero e tutti lo aspichiamo questo lo voglio dire da subito non vuol dire che dobbiamo mollare Angelo Zaccone Teodosi per Key4Biz articolo 21 e il riformista non entrando nel merito degli aspetti di rilevanza diciamo giuridica costituzionale della limitazione alla libertà di del totale dei cittadini dell'intera popolazione volevo porre un quesito a entrambi diciamo sia al commissario sia al presidente dell'istituto nell'assumere decisioni così draconiane al di là dello specifico della durata veramente curiosa soltanto quattro giorni del termine temporale dell'ordinanza a firma del ministro Speranza l'istituto e comunque anche il commissario il governo ha tenuto conto delle conseguenze nel rispetto del dolore nel rispetto della morte di coloro che sono contagiati sono stati contagiati dell'assumere delle decisioni così rigide e draconiane che riguardano 60 milioni di cittadini e più ovvero le conseguenze che sono forse non tangibili come il crash o lo stress del sistema sanitario o la conta dei deceduti ma il fatto che all'interno delle famiglie ovviamente si vengano a determinare delle conseguenze di natura infrapsichica il cui effetto si vedrà probabilmente fra mesi se non fra anni allora la domanda è è evidente che le misure sono state assunte perché alcune migliaia di cittadini imbecilli non hanno rispettato quei criteri essenziali che l'istituto e il governo comunque ha diciamo ribadito ma non sono state assunte delle misure eccessive che hanno delle conseguenze appunto sociali e psichiche gravissime faccio soltanto un esempio avrete letto la denuncia di telefono rosa e questo è soltanto un aspetto microscopico rispetto alla dimensione complessiva del problema che negli ultimi giorni le denunce per violenza domestica sono crollate di oltre il 50% verosimilmente non perché ovviamente ci sono dei compagni come dire tranquilli e sereni e benevoli quindi mi domandavo se anche all'interno del comitato tecnico scientifico questa valutazione è stata assunta e ricordo che uno dei componenti se non erro del comitato tecnico scientifico l'esimio suo collega professor Ricciardi ha dichiarato non più di una decina di giorni fa che era a favore di una chiusura totale della regione Lombardia ma era perplesso sulla chiusura totale dell'intero paese giusto appunto anche per le ragioni che ho qui richiamato grazie allora lei solleva un problema certamente molto reale e molto attuale ovvero sia il benessere psicologico e gli equilibri che ci possono essere all'interno dei nuclei familiari o dei nuclei abitativi o delle convivenze che sono in atto nel nostro paese a cui aggiungerei c'è anche un altro elemento molto critico che è quello delle persone che sono portatrici di disabilità che normalmente trovavano una forma di assistenza o di gestione diciamo durante la giornata o durante la settimana presso centri specializzati che in questo momento questo tipo di assistenza di servizio non hanno e che quindi sono totalmente a carico della famiglia questo è un problema reale è un problema serio devo dare atto anche al nostro ministro al ministro Speranza ha attivato e sta attivando delle attività di questo tipo stamattina durante il comitato tecnico scientifico abbiamo avuto un incontro anche col presidente dell'ordine degli psicologi si stanno attivando anche altre iniziative lo stesso istituto superiore di sanità sta creando dei momenti dei momenti informativi per poter accompagnare questo momento che certamente può comportare dei rischi io però vorrei anche mostrare la parte di bicchiere non so se mezza ma comunque quella parte piena poi ognuno valuterà quanto piena è c'è anche però questa è una grande occasione per riannodare i fili di anche un dialogo anche una vicinanza tra persone tra amici tra conviventi tra familiari transgenerazionale a me piace solutineare che i comportamenti dei più giovani i comportamenti dei baby boomers come la mia generazione la generazione a cui appartengo sono comportamenti che in questo momento nel loro declinarsi si fanno carico e devono farsi carico dei nostri genitori e si fanno carico con l'adottare i comportamenti ma anche con il supporto con garantire una spesa con garantire la vicinanza con garantire il farmaco con una serie di servizi che se non garantiti rendono effettivamente molto difficile fare questo questo non vuol dire però che anche la società e le articolazioni dai comuni alle ASA ai volontariati non debbano lavorare assieme per creare quella rete quel network di solidarietà di vicinanza di supporto che può solo che solo può aiutare a far sì che quando diciamo agli anziani state a casa possano starlo possano rimanervi sapendo di avere una rete di persone attorno che cerca di garantire loro di proteggerli credo che comunque ulteriori iniziative verranno adottate posso garantirle che il ministro è particolar diciamo il ministero è particolarmente ma io direi tutto il governo è particolarmente attento a questo aspetto Buonasera Sabene Tg2 professore volevo chiederle un paio di cose intanto se secondo lei anche continuando a monitorizzare il virus c'è stato un cambiamento una mutazione arrivati a questo punto e se secondo lei il vaccino e se i vaccini o i potenziali come dire i candidati come sono stati definiti più volte anche da lei hanno qualche potenzialità per una breve soluzione di questo enorme problema Allora questa è una domanda che ci facciamo tutti dai dati diciamo di analisi di studio virologico degli isolati non abbiamo oggi evidenze che circoli un virus significativamente diverso che ci sia stata una mutazione sto dicendo ad oggi poi ovviamente abbiamo detto che questa è una epidemia nuova che stiamo studiando che stiamo imparando che si declina in maniera diversa in termini di fusione e che ci porta in funzione anche della popolazione che incontra e anche in qualche modo che impatta sostanzialmente sulle organizzazioni sociali in maniera diversa quindi la risposta alla prima domanda è no ad oggi scientificamente vuol dire ad oggi non abbiamo evidenze che ci sia una mutazione né da noi né negli altri paesi europei la seconda domanda era sul vaccino il vaccino è oggi credo uno degli obiettivi che i migliori gruppi di ricerca competenti nel sistema e le migliori aziende hanno nel loro obiettivo ci sono vari prodotti alcuni già a livello animale ha stato avanzato insomma capiamoci cosa vuol dire avanzato sviluppare un vaccino richiede tempo se il tema è se lei mi dice tra un mese avremo un vaccino la risposta è no non lo avremo se lei mi dice a fine anno avremo un vaccino la risposta è potremmo averlo perché avere un vaccino vuol dire averlo testato ma averlo anche prodotto in milioni di dosi e quindi renderlo disponibile a tutte le persone partendo da quelle più fragili ovviamente a me risulta che ci sono alcuni gruppi stanno chiedendo l'autorizzazione o stanno iniziando queste fasi quindi non siamo ancora a livello di risultati per quanto ne so io grazie grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti